Eccoci qua, Andrea si arrabbia perché io ci metto l'ora però io sono una dormigione, vero pure ora la l'azzo di che ci devo espringare io voglio fare le pote oh no, oh no oh no, oh no eh? oh no oh no ora la l'ora abbiamo visto la palestra lei è distrutta, non ha fatto praticamente niente, si è messo a correre, ha detto vado a fare un po' di tapirulani, 5, 5, 5, perché non posso il primo giorno ammazzarmi, almeno 10 minuti di tapirulani, non 5, 5 per sciogliere le gambe, non nascolciate, ragazzi siccome ogni volta che io esco dalla macchina, vedi fa suonare anche l'allarme, cosa stai combinando? l'ho chiusa dentro perché mi sta stupando, vuoi entrare? Io vado, ciao, e sto andando, ciao, ragazzi anche l'influencer usano i sacchetti ecologici, il guanto per non contaminare la fonte chiamano di stare a vedere, grazie ragazze, è tornato il calzino bianco, amore, mi stiamo andando? No, amore, allora, devi dire alle mie amiche che il calzino bianco è fashion, a cagata se c'è, ragazze, dopo tutto questo tempo d'estate che io sinceramente non ho fatto chissà che cosa a livello... No, non hai fatto, togli non hai fatto chissà qualcosa per il calzino bianco, non hai fatto chissà, ho preso la macchina heads, comunque... Che cosa è sempre comunque, amore? Ma adesso è l'altro con una roma preferita? Comunque ragazze, eccoci, allora abbiamo finito palestra, non mi ha fatto vedere niente perché Andrea si è appropriato del mio telefono, quindi non potremmo entrare nello spogliatoio di uomini anche se, però è andato benissimo, io mi sto fatta il mio allenamento e lui il suo. Su le bocce Andrea, comunque ragazze, con la mia autostima io non ho bisogno di far palestra, vero amore? L'ha detto Andrea, me l'ha detto, tanto che sono più tonica di quelle che allenavano. Ragazze, andiamo a mettere fuori, dai amo aprimi, questa è la merda davvero, ragazzo, bello che non balla, questo è un bello che non balla, vedete? Alto, moro, gambe e cavelle, a stecchino, così mi insulto un po', dai amo aprimi, Andrea!